è il mio compleanno ma sono una food blogger e quindi è ovvio che la porta me la prepari da sola allora per festeggiare il mio 35esimo compleanno come da 13 anni a questa parte ho deciso di preparare una torta tiramisù alle pesche volete vedere come prepararla innanzitutto preparate la crema pasticcera troverete la ricetta nei commenti quindi mescolate trasferite la crema in una ciotola fredda e lasciatela raffreddare completamente mescolate ancora coprite con pellicola trasparente a contatto e lasciate raffreddare completamente per fare la torta tiramisù alle pesche avremo bisogno dell'anello dello stampo a cerniera che andremo a sistemare direttamente sul piatto di portata quindi tagliamo i savoiardi a misura quindi dell'altezza dell'anello a cerniera sistemiamo i savoiardi lungo tutto il perimetro dello stampo dell'anello così con la parte zuccherata verso l'esterno quando la crema sarà fredda e lo stampo sarà ricoperto procediamo con la preparazione e quindi andiamo ad aggiungere sul fondo del piatto uno strato di savoiardi imbevuti nel succo di frutta alla pesca dobbiamo ricoprire tutta la superficie del piatto così adesso la crema pasticcera sarà fredda e quindi aggiungiamo il mascarpone poco alla volta e mescoliamo naturalmente potete utilizzare delle fruste elettriche l'importante è aggiungere il mascarpone poco alla volta così mescolate oppure montate fino a quando otterrete una crema pasticcera al mascarpone quindi senza uova crude così densa liscia e vellutata ecco quindi trasferite metà del composto nel piatto sui savoiardi bagnati distribuite bene la crema così facendo attenzione perché qualche savoiardo potrebbe spostarsi aggiungete dei pezzettini di pesca naturalmente potete sostituire le pesche con l'ananas e quindi intingere i savoiardi nel succo d'ananas sistemate ancora uno strato di savoiardi così fino a ricoprire tutto e quindi l'ultima parte della crema tenuta da parte distribuite la crema su tutta la superficie così nel frattempo avrete già tagliato e affettato delle pesche io ho usato le pesche noci quindi le pesche nettarine formate un bocciolo con delle pesche tagliate sottili sottili e decorate adesso io ho formato una rosa ma voi potete decorare come più preferite sistemate con cura tutti i petali di pesca sollevando un po' quelli messi in precedenza in questo modo terrete una rosa perfetta unico accorgimento è quello di tagliare le fettine di pesca in maniera molto sottile quindi una volta decorata tutta la torta si presenterà così nel frattempo scaldiamo leggermente della confettura di albicocche o di pesche e quindi andiamo a spennellare tutta la superficie naturalmente potete utilizzare della gelatina alimentare a me non piace quindi preferisco la confettura una volta spennellato la copriamo la torta e la trasferiamo in frigo la mia torta di compleanno è pronta e quindi tanti auguri a me ciao